Grazie Presidente. Io devo dire che sono rimasto imbarazzato nella presentazione che il Presidente e l'amministratore delegato hanno fatto in questo momento. Prima di tutto perché bastava dare i numeri dicendo questa è un'ipotesi A con la presenza del verde, questa è un'ipotesi B senza la presenza del verde, potevamo già incominciare a guardare i numeri. E quindi voglio dire trovo veramente una cosa assurda non aver dato oggi dei numeri e rimango veramente a bocca aperta di che cosa hanno raccontato. E' scappato all'amministratore dell'azienda una frase che rimarrà agli attimi dicendo quando lavoravo, ecco perché veramente mi dà la sensazione che mi dispiace ma proprio sulla palla non ci siete proprio per niente. Questo perché? Perché anche il modo in cui avete dato le dimissioni volontarie, cioè dando un numero 55, 80, 92 che giustamente il Presidente Bestetti ha detto sono più di 250 persone che se ne sono andate. Ma chi sono queste persone? Quali sono le funzioni? Sono dirigenti? Sono impiegati? Proprio il modo di come sono stati presentati è totalmente sbagliato. I 55, gli 80 e i 92 che sono andati sono i più bravi perché dalle aziende, qui dalle lettere di dimissioni sono i più bravi e quindi voglio dire voi state perdendo il know-how e le persone preparate che ci sono all'interno di M&M. E il fatto che voi non avete presentato oggi dei numeri è un insulto nei confronti dei sindacati che ci sono in questo momento ad ascoltarci perché voi non avete dato la progettualità futura di questa società. E su questi numeri bisogna confrontarsi e capire e investire. Voi avete la responsabilità di 1300 famiglie ed è questo il modo con cui vi atteggiate nei confronti del vostro azionista e soprattutto delle persone che ci lavorano dentro. Per di più vi venite a parlare delle buche che ve ne dovete occupare ma c'è Milano che è tutta una buca dritta manca e siete voi a portare... Io conoscevo la M&M degli anni 90, quella M&M che faceva le linee della metropolitana, quella M&M che era l'esempio dell'ingegneria, no? E non faccia quella faccia l'amministratore delegato perché avrebbe stato un esempio, una capacità di lavorare all'interno dell'MM che ha fatto le linee più importanti di Milano e è stato un esempio. E oggi voglio dire, io voglio vedere i conti perché se voi state in piedi solo e unicamente per l'acqua e dalle altre parti, come ha segnato giustamente il presidente Bestetti, sono perdite dappertutto, no? Sono proprio curioso di vedere che cosa state gestendo perché è inaccettabile pensare di ridurre la metropolitana milanese in questo stato in cui voi la state riducendo. Grazie.